salve a tutti amici di vinecraft qui accanto a me c'è il mio fratello vicolò bella a tutti ragazzi ragazzi voglio intanto ringraziare a enjoy the fan che ci aiuta a migliorare il canale specialmente se avete qualche domanda potete iscriversi al suo canale che ve lo lascio in descrizione se lo cercate su youtube si iscrive a enjoy the fun quindi ragazzi troviamo una partita disinnesco cerchiamo una partita vediamo quello che ci trova allora parli tu del canale come andrà allora in pratica visto che abbiamo conosciuto questo youtuber che ci sta aiutando a migliorare il canale a migliorarci nei video abbiamo deciso di cambiare programma per montare video quindi da cam studio siamo passati a sony vegas un programma con le contro fiocchi per non dire altro alla fine diciamo un programma più professionale di campo studio ragazzi vi posso dire che è veramente una cosa bestiale quindi le vecchie intro e vi ricordate questo cambierà la vita ci sarà la vita quella bella eeeh eeeh ecco ragazzi io ho aperto il mio canale youtube molto presto inizierà a fare video eeeh divertendoci eeeh divertendoci eeeh ok mi scrivi dai allora ragazzi come vi ho già detto questo è il cul de strike eeeh siamo in attento e finisce eeeh la partita non proprio la partita ma eeeh 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 un pochettino a lungo in senso saluta ciao non lo posso fare per me giustamente le armi diciamo che si acquistano tramite i punti eeeh 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 un po' compreste bello mi ricorda parte mio fratello in batte il bella il bello ragazzi con il fc analizza l'allarme l'ho ucciso forse io ho guadagnato ho guadagnato 150 dollari vabbè sarebbero tipo vabbè fu di esperienza spero acquistare le armi qui nel gioco ah mi ho ucciso e va bene ragazzi ma abbiamo vinto quindi facciamo di nuovo fucili scrivi in chat salutare il gioco ops eh non con tutti eh non con tutti eh praticamente le armi purtroppo non ci può più no non si può mirare più che d'altro nooo non è bello quanti cavolo che faccia aveva alla faccia danni ricevuto 106 abbiamo capito eh guarda manda a pacca di sicuro sono l'italiano di sicuro nike 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 eric da el pulsa pulsa non so come si faceva ammettersi tipo internamente il giocatore stesso eh most successivo space delle camere geniare ecco abbiamo la visuale l'alberto dei degli altri ma questi sono gli amici o gli amici ah non lo so ancora non l'ho capito questa è la seconda volta comunque ci siamo guardati c c c c c eeeh 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 c non posso da ragazzi oh ma io cavolo niente ecco non ci ho visto più niente tanto che viene oh ralaccia oh oh ma io c'è niente oh oh ma vero ucciso qualcuno niente no uno ah 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 com'è astis ah 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 vai vai com'è astis quasi stanno mancando un po' purtroppo la pecca di questo più perché non si può mirare peccato oh o abbiamo forse abbiamo piazzato la bomba ma ancora mi ci devo habituare ragazzi dopo la姿 Ehm... Mi terrorista lui? Io non mi guarda terrorista o maie prendista? Oh... Questa è lui Questa è un terrorista Non c'è male 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 Dove è volata? Eh dai Mira Bu Ma Questa è... È la grafica dei terroristi Non ti fa vedere Io non ho fatto questo Questa è un mio compagno Quelli in due E sono rimasti 4 contro 4 No Giusto 2 4 6 Pizzicauco Ma come mi tirano? No, non lo capisco Comunque si è sentito come sotto il mondo Perché mi sono diventato male Non c'è male Non, non ho mai Hmm Mmm 5 4 3 2 1 si sente nel video lo mettiamo in ragazzi io sapete cosa faccio vado un tuffo no 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 eeeh 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 nooo eeeh si ragazzi sto facendo la partita leggermente in merda ma comunque sono dettagli eeeh va bene piano piano eeeh inviateci delle idee per delle sfide in questo gioco tipo ogni morto direccata ahahah assento vabbè ma cosa tipo benedetta che so una sfida una sfida 5 4 3 2 1 scoppierà la bomba uuuu siamo 3 a 6 ragazzi stavolta non mi prendo più mi prendo un bel cucina da cecchino non 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 capisco non capisco non 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 da ne� città lì sono piazzando la bomba sua ombassata la data ma di sicuro moriranno questi percava solo sono 2.4 quindi non penso proprio e c'è la parola e pia è morto c'è guarda guarda ah ma vedemi sottile tutti sopra un bersaglio l'altro sta cercando di rilasciare al meglio io l'accedo io non credo non credo non credo no come infatti si ritira eric va bene va bene ecco dai dai non sempre si può vincere a volte si può morire ehm mita c'è un mita novanta novanta dei tempi ragazzi spero di non morire subito no vabbè dobbiamo installare a ucciso 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 mi ero fatto prendere dall'emozionale ho detto perchè no sacrifico i miei amici per farli i miei no invece sono morto lo stesso con un fornito non c'è un po' non c'è un po' oh ma non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' guardate guardate avanza la minibot il mio guarda sinceramente non mi interessa io passo più io passo più guardate vetate chi dice muore muore mi giovane che non mi morì non c'è nessuno no testo vengono forse sto resistendo fino all'ultimo Smoak! Sì, le fai! No, stiri trova! Igo! ORI! Iiii! Igo! Igo! Non vado mai! No, i pino vado, non vado così! Igo! Mettiamoci Joey West Quanto sta? 3 e 2 hastes No, io mi rovo in testa però! Ah, peccato! Però dai, abbiamo... Ho fatto una partita resistendo e resistendo al minimo e ne ho ucciso uno, dai! È un grande risultato, adesso si può dire! Ehm... Dai, dai, dai! Flashback! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Che dire! Aspettiamo che finisca la partita la partita perché vado Quanto stai adorando il video? Sai, vado! Va bene! Va bene! Bella! Quando i passi rimane all'ultimo Bello, bello, bello! La uccisione è spettacolare! Ti la faccio! Ti la faccio! Ti la faccio! Ti ha lanciato la granata ma la granata devi tornare indietro E' spettato! Motti! Vadoci! 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 Che lei lo è? Vadoci! Sto messaggiando un attimo A posto! Sto messaggio un attimo likedo i pubblicitari il mondo Va beh. Il claspe Z Slashback! Ah Si Ma scusa C'era uno stagliato Sì, che sembra che era più da nuovo No, che non ci ho visto più Come cavolo ha fatto uccidermi con un colpo? È assurdo, ragazzi Comunque, ragazzi È finita qua la partita Hanno vinto giustamente i terroristi Ritorniamo al menu principale Comunque, ragazzi Spero che l'episodio vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale sia di Enjoy Che sia quello mio E che dire, ragazzi Ciao a tutti e ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti, ragazzi